Siamo in compagnia di Domenico Cerchia, originario di Piedimonte Matese, che è stato vittima di un furto della sua auto. Alcuni mesi fa, poi la macchina è stata ritrovata in Germania e adesso sta subendo, diciamo alla fine, ulteriori danni perché? Perché sta subendo una sorta di cavallo di ritorno, come siamo abituati a chiamarlo così, quando nel momento in cui ci venne derubata una macchina, ci chiedono dietro dei soldi per poterla riavere. Invece qui la storia è un tantino diversa, diciamo che questo cavallo di ritorno è in qualche modo legalizzato da una legge assurda, strana. Ecco, innanzitutto che cosa è successo esattamente? Innanzitutto, buongiorno a tutti. Niente, il 24 luglio del 2019 sono stato vittima di un furto a casa. Mentre stavamo anche noi a casa mia moglie e mia figlia dentro, vabbè, vennero come... è inutile che stiamo a raccontare tutto quello che mi hanno rubato perché è inutile. Parliamo della macchina ora. Questo è avvenuto di notte? Sì, è avvenuto alle 3.10 di notte, è avvenuto il furto dentro casa mia, sì, esattamente. Poi che cosa è successo? Poi è successo che praticamente mi rubarono la macchina, io i ladri li ho visti anche perché poi ci siamo svegliati, mia moglie si svegliò, mia figlia mi venne a chiamare e io catapultandomi fuori al cancello vedi la prima persona che stava a due metri da me, però io stavo all'interno del cancello, però non vedi la seconda persona che già stava nella macchina per potersi portare la macchina. Praticamente io ho visto che si sono portati tutti i miei risparmi, diciamo, di una vita sotto i miei occhi, quella sera che non dimenticherò mai. Veniamo intanto alla macchina, hanno rubato la macchina, poi? Allora, hanno rubato la macchina, rubano la macchina, faccio la denuncia ai carabinieri, alla locale stazione di Bidi Mondamatesa, ai carabinieri che si sono rubati la macchina e tanti altri valori, oggetti di valore e tutta via discorrendo. Nel mese di, se non vado errato, nel mese di gennaio, all'inizio di gennaio vengo chiamato dalla stazione di carabinieri di Bidi Mondamatese dove mi comunico che la macchina è stata trovata in Germania a Murnau, precisamente, e i confini tra l'Austria e la Germania. In tanto, la macchina, diciamo, quando è stata rubata? Quanti mesi fa? La macchina è stata rubata a luglio, come ho detto il 24 luglio di notte, diciamo a cavallo tra il 24 e il 25 luglio. Intanto mi chiamano i carabinieri come dicevo prima che la macchina era stata trovata, mi fanno la comunicazione che la macchina è sotto sequestro giudiziario a Murnau, dalla polizia lì ai confini della Germania di Murnau. Intanto mi fanno questa notifica, facendomi la notifica, praticamente io mi dovevo, comunque mi dovevo procurare un interprete per poter interagire con la polizia tetesca. Grazie ad una cara collega, una collega di lavoro, la interpreto, la dico, senti, non faccio il nome per correttizza, è meglio non fare il nome di questa mia collega. Gli porto tutte le carte e dico, senti, mi devi fare questa cortesia, così, 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 perché mi hanno rubato la macchina e ora chiedono spiegazioni, chiedono documentazioni dove io, il tedesco, non lo so assolutamente. Praticamente questa mia collega perde tempo, ma mesi, mesi, non un giorno, perde mesi appresso a questa polizia tedesca, tedesca, mandando tutti gli incartamenti e i documenti originali che poi i documenti originali della macchina ce li ho io a casa, libretto e foglio di circolazione ce li ho io a casa. Praticamente inviamo tutta la documentazione necessaria, tutta questa cosa necessaria. Intanto la polizia tedesca comunica alla mia collega che chi aveva venduto la macchina era stato arrestato, era stato arrestato, vabbè, e la cosa finisce qua, era stata arrestata. La macchina comunque oggi attualmente è ancora ferma a sequestro giudiziario. Quanto è stato? L'altro ieri, l'altro ieri mi convocano di nuovo la caserma dei Carabinieri, il maresciallo, per dirmi, dico, vabbè, hanno trovato la macchina, penso che la macchina devo andare a ritirarla, ma non è stato così, caro Lorenzo, caro direttore, non è stato così, ma bensì mi dicevano tutte altre cose, che la signora che ha comprato la macchina praticamente vuole i soldi, se io rivolgo la macchina. Questo lo scrive la Repubblica di Monaco di Baviera, non lo sto scrivendo io, non lo invento io, non lo sto inventando io, con tanto di cartaceo. Dice che se rivolgo la macchina io mi devo mettere in contatto con questa signora, con questa signora che ha comprato la macchina e mettermi d'accordo con un cavallo di ritorno legale. Alla fine diciamo che è così? Alla fine è così, perché la Germania così interagisce, perché poi parlando pure con qualche avvocato, via discorrendo, è inutile impattarsi con questa gente perché alla fine non fanno entrare nessuno, perché a noi, ahimè, siamo la barzelletta del mondo, Lorenzo. Che macchina era? Era una Audi Q3, una macchina di un valore abbastanza esoso, non era una macchinina e quindi... Adesso lei che cosa pensa di fare? Niente, io in questo momento intanto ho scritto alle Iene, alla redazione delle Iene, ho scritto per vedere poi se mi rispondono, poi scriverò al Striscia la Notizia anche per capire, ma giusto per capire, tanto intanto, intanto da quello che si è capito la macchina non me la ridanno, perché la macchina mi vogliono i soldi per riavere la macchina, non mi posso andare a ricomprare la macchina mia di nuovo, quindi poi non ho messo avvocati, non ho messo queste cose come mi potete insegnare, queste sono cause civili che durano all'infinito e quindi la macchina poi il valore che c'è oggi, finisce una causa tra dieci anni la devo rottamare, la devo buttare la macchina, allora questo è. Quindi diciamo, si è stato danneggiato due volte? Sì, sono stato danneggiato due volte, perché era meglio che non si trovava la macchina, che poi la cosa strana è che ci rimango male, che non è possibile che questa macchina è stata immatricolata, anzi mi dimenticavo questo particolare direttore, è stata immatricolata due volte questa macchina, questa Audi Q3, una volta in Romania, intestata ad una donna e una volta in Germania venduta a quest'altra donna, cioè questa è la cosa che mi fa più L'unico però che ha i documenti originali è lei? L'unico che ha i documenti originali della macchina sono io, sono io esattamente, il telaio è stato punzonato come si dice, la parola tecnica è questa qua, la punzonatura è stata punzonata due volte la macchina, questo è tanto, non so più altro che dire alla fine rimango rammaricato, più di questo non posso fare. Alla fine effettivamente siamo senza parole pure noi, non facciamo altro che chiudere qui con la speranza che si possa muovere qualcosa di positivo ma anche io la vedo abbastanza complicata.